come ti chiami? questa non ha nome. tu ti chiamerò terruccio. questa non viene mai la. no perché... quell'altra grossa si e quello il maschio vengono sempre. tutti i giorni forse che io li do da mangiare. ciao amore, ciao amore, stai meglio vero? vediamo un po', no? lei lo smetti? vediamo un po'. e chi ti vede? non va? ora basta. vediamo, ferma, ferma perché vedi se mangio la mela vediamo, ciao. Ayo.